La Camera di Commercio del Molise comunica che è in corso l'aggiornamento per il quarto trimestre 2016 del progetto Excelsior, l'indagine che Union Camere realizza dal 1997 in collaborazione con il Ministero del Lavoro. Il progetto Excelsior, giunto alla sua diciannovesima edizione, è finalizzato al miglioramento delle conoscenze sull'andamento dell'occupazione nelle imprese e alla relativa richiesta di profili professionali. Nell'ambito di questo progetto viene effettuato un monitoraggio relativo alle previsioni di assunzione relativa al quarto trimestre 2016 su un campione costituito da imprese e studi professionali con dipendenti distribuiti su tutto il territorio nazionale e selezionati casualmente dagli archivi delle Camere di Commercio. In particolare, la rilevazione effettuata dal 15 novembre al 25 viene realizzata attraverso un'interfaccia online inaccessibile direttamente attraverso uno specifico link riportato nella lettera di sensibilizzazione inviata alle imprese via PEC. Si specifica che le notizie raccolte con l'indagine saranno trattate esclusivamente a scopo statistico, garantendo la massima riservatezza.